1, 2, 3! Domenica 31 marzo andrà in onda una grande giornata di solidarietà, di sport e di spettacolo perché sono tre ingredienti che messi insieme davvero possono richiamare il grande pubblico. Avremo la nazionale italiana cantanti con nomi prestigiosi come Paolo Belli, Paolo Vallesi, Enrico Ruggeri, Moreno, Biondo, Daniel Piccirillo, Briga, Pier Davide Carone e dei D.R. Jack tanto per citare i più noti, la nazionale cantanti si scontrerà con la nazionale delle poste italiane al suo debutto, al suo primo incontro. Quindi invitiamo tutti a partecipare. Le tribune sono sold out, sono andate completamente esauriti i biglietti, mentre sono ancora disponibili i biglietti per le curve. Quindi chiediamo a coloro che volessero partecipare a questo evento di affrettarvi. Ricordo gli orari del botteghino dello stadio. Domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 fino all'inizio della partita. Rimangono validi certamente tutti i punti che sono stati distribuiti di vendita dei biglietti e che continuano ad operare fino alla data della partita. Ricordiamo che il tutto è per sostenere due associazioni che si occupano di importanti situazioni. Verranno beneficiate due associazioni, la TMA che è a sede in Campania ma ha centri in tutta Italia che applica una terapia multisistemica in acqua e la Banca del Gratuito che è un'associazione di volontariato che da oltre 25 anni opera a Fano con diverse attività. Alle 14.10 ci sarà un pre-partita con un'esibizione di Luca Vagnini, quindi la Dance Academy Studio di Aghemo Tiziana, quindi una scuola tra le note, quindi il complesso bandistico della città di Fano e quindi un'esibizione di alcuni artisti che poi giocheranno anche la partita. Ringraziamo anche in particolare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, gli sponsor e in particolare Media Friends che ha dato una collaborazione davvero importante.